Polla, morte del piccolo Nicolas di sei mesi, ipotesi di shock settico, si attende l'esito dell'autopsia mentre proseguono le indagini. Roma, presentato in anteprima il docufilm I segreti dei luoghi perduti, una idea della Fondazione Montepruno per promuovere le aree interne. Incendi boschivi nel 2023 in provincia di Salerno bruciati 99 ettari di superfici forestali. Ispani domani sera 5 luglio appuntamento con Ispani Jazz Festival nel Borgo Antico, il grande musicista jazz re gelato. Salernitana Danilo Iervolino pronto a dimettersi. Eccoci ben trovati al nostro telegiornale, cartelle cliniche poste sotto sequestro a Polla per il decesso del bimbo di sei mesi originario di Sala Consilina, il piccolo accompagnato in ospedale dalla coppia di genitori di origini romene, deceduto dopo aver vomitato e dunque pochi minuti dopo il suo arrivo in ospedale. Tante le ipotesi al baglio degli inquirenti tra cui anche un possibile shock settico. Ma vediamo i dettagli. La morte del bimbo di appena sei mesi presso l'ospedale Luigi Curto di Polla lascia un profondo senso di sconcerto e amarezza in tutto il Vallo di Diano. Una morte assurda su cui ora gli inquirenti tentano di far luce partendo dall'esame autoptico sul piccolo corpicino per cercare di capire cosa ha provocato la sua improvvisa morte avvenuta presso il presidio ospedaliero pochi minuti dopo il suo arrivo in pronto soccorso e secondo quanto emerge dopo aver vomitato. Una tragedia avvenuta talmente tanto in fretta da richiedere ora accertamenti sulla causa a seguito anche della denuncia dei genitori del piccolo che hanno voluto rivolgersi ai carabinieri per ricevere risposte chiare sulle cause che hanno portato al decesso del piccolo Nicolas. Il piccolo è deceduto lo scorso martedì quando nel pomeriggio è giunto presso l'ospedale Pollese accompagnato dai suoi genitori preoccupati per la sua salute. Pochi minuti dopo il suo arrivo in ospedale il bimbo pare abbia vomitato e diventato cianotico. Nonostante i tentativi dei sanitari di salvargli la vita è purtroppo deceduto. Secondo una prima ipotesi che resta comunque tutta da confermare pare che il bimbo sia stato colpito da una forma di shock settico che ha provocato l'arresto cardiocircolatorio. Una ipotesi ancora tutta da confermare che laddove l'esame autoptico accerti tale possibile causa si tratta di una sindrome potenzialmente letale già di per sé in quanto consiste in una sregolata risposta infiammatoria da parte dell'organismo corporeo e quindi di molti organi all'eventuale aggressione di batteri o comunque più in generale di agenti infettivi. Sarà dunque solo l'autopsia poter chiarire l'accaduto e le cause che hanno portato al decesso improvviso di un bimbo di appena sei mesi così come si potrà anche accertare se la tragedia poteva in qualche modo essere evitata. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri della compagnia di sala Consilina che hanno posto sotto sequestro le cartelle cliniche del piccolo. Si tratta in ogni caso solo di una delle ipotesi su cui si sta lavorando come possibile causa di un decesso avvenuto in maniera improvvisa sul corpo di un bimbo appena nato. Ciò però non esclude l'analisi di ulteriori ipotesi al fine di arrivare alla verità sul decesso del bimbo originario di sala Consilina. Sono le aree interne del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Viano e Alburni i luoghi segreti raccontati nel docufilm prodotto grazie alla sinergia e alla complicità che si è instaurata tra Michele Albanese e Roberto Vargiù quindi tra la Fondazione Montepruno e di Live Media. Ieri a Roma la presentazione del lavoro cinematografico che sarà protagonista di eventi fieristici per promuovere il turismo. I segreti dei luoghi perduti, il docufilm presentato nella mattinata di ieri presso la sala stampa della Camera dei Deputati e la presenza anche dell'Onorevole Gianluca Caramanna, componente dell'Osservatorio Nazionale sul Turismo, è stata più che altro un'occasione per far scoprire luoghi di straordinaria bellezza i cui segreti meritano ora di essere portati alla luce. Grazie alla Fondazione Montepruno presieduta da Michele Albanese, nei mesi scorsi è stato realizzato un lavoro straordinario che ha consentito, grazie anche alla presenza dei due attori importanti del mondo della fiction italiana, ossia Simone Montedoro e Bianca Nappi, di presentare alcuni dei punti più suggestivi, storici, culturali e paesaggistici che rientrano nel Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Si tratta di aree, quelle raccontate nel docufilm che la Fondazione Montepruno ha voluto fortemente realizzare al fine di dar vita, anche per il Vallo di Diano, a quella sinergia che si sta sempre più diffondendo tra cinema e turismo, poco conosciute ma che nascondono davvero dei segreti straordinari e che di conseguenza hanno dato il titolo al lavoro cinematografico presentato ieri. Un lavoro che ha emozionato ed inorgoglito è il presidente della Fondazione Michele Albanese che nell'introduzione alla proiezione in anteprima del docufilm a cui hanno partecipato anche gli attori protagonisti del lavoro, ha voluto sottolineare come si tratta solo di un primo passo verso la promozione del territorio nella consapevolezza anche del grande valore storico, culturale e paesaggistico che conserva. Siamo entusiasti di questo lavoro, effettivamente rende molto quella che era l'idea iniziale della nostra banca e della nostra fondazione, quella di portare avanti un progetto che soprattutto sia educativo e sia da divulgare in varie fasi, partendo dalle scuole e arrivando anche nei vari enti che promuovono i territori e promuovono attraverso il cineturismo quelli che sono i luoghi che non tutti conoscono. L'abbiamo fatto veramente con entusiasmo, vedo l'emozione negli occhi dei partecipanti, anche degli attori, degli amici Bianca Nappi e Simone Montedoro che insieme a noi si sono emozionati e vederli emozionati perché hanno visitato questi luoghi, li hanno rivissuti come li abbiamo vissuti noi, è importante perché significa che abbiamo visto bene, significa che i nostri luoghi ancora conservano quella bellezza, conservano sicuramente quelle entità e identità di cui tutti quanti conosciamo. Nel vedere questo docufilm mi sono ancora di più confinto che abbiamo il dovere di insistere, di continuare a lavorare nell'interesse dei nostri territori, territori che sono bellissimi ma che hanno bisogno sicuramente di qualcuno e di persone che si impegnino per farlo conoscere ancora di più. Noi dobbiamo compattere assolutamente lo spopolamento, dobbiamo compattere assolutamente la fuga dei cervelli e lo possiamo fare attraverso queste iniziative, facendolo conoscere i territori, dando posti di lavoro, cercando di iniziare quel percorso che abbiamo iniziato già dal 2014 con l'area media e che tente soprattutto a dare dignità a quelle zone che purtroppo non lo hanno per tanti motivi. Siamo una zona dimenticata dalla politica, siamo una zona che siamo dimenticati un poco da quelle che sono le istituzioni principali, però non ce lo meritiamo e quindi la nostra banca ha non solo il dovere ma anche l'impegno che deve assumere nei confronti della comunità di appartenenza. Il lavoro cinematografico, come sottolineato sia nel corso della conferenza stampa presso la Camera dei Deputati che all'anteprima della proiezione del film presso la Sala Fellini della Casa del Cinema Villa Borghese a Roma, sarà portato in visione numerosi eventi fieristici sia nazionali che internazionali e sarà dunque un importante veicolo di promozione turistica dell'area del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Il docufilm presentato ieri a Roma ha mostrato in particolare borghi e aree suggestive dell'entroterra del parco e del Vallo di Diano, luoghi molto meno conosciuti rispetto ai ben più noti Certosa e Costiera, una scelta che si è dovuta comunque limitare visti i tempi risicati imposti dal lavoro cinematografico ma che come già sperimentato potrà offrire un grande aiuto per lo sviluppo turistico dell'area La realizzazione del docufilm presentato ieri a Roma è frutto di un lavoro congiunto che ha visto in campo oltre alla Fondazione Montepruno anche la BCC Montepruno che da sempre investe sul territorio, parte delle risorse che provengono dal territorio e da DLive Media che collaborano in diversi progetti ormai da anni grazie anche ad un'importante complicità che si è instaurata tra il direttore albanese e il direttore di DLive Media Manager Roberto Vargiù Un lavoro complicato anche per la difficoltà di dover condensare in poco più di 40 minuti le meravigliose riprese realizzate nel corso dei lavori di produzione del docufilm dovendo anche rinunciare aspettazioni importanti che raccontano le bellezze presenti nell'area parco oltre che rendere difficile anche la scelta dei luoghi da raccontare nel docufilm un aspetto questo raccontato da Roberto Vargiù Personalmente sono salernitano, il 90% dei luoghi che abbiamo visitato non conoscevo conoscevo Teggiano sicuramente, un po' Roscinio ma tutte le altre parti anche perché non era semplice arrivarci e adesso che lo vedrete nel documentario con i droni ripreso dall'alto ha un effetto assolutamente speciale troppo il docufilm aveva un minutaggio di 45 ci siamo accorti che veramente tanti posti meritavano di essere approfonditi ulteriormente di essere ancora più esplicitati non lo so, chissà, magari questo primo documentario ha veramente un grande successo come noi ce l'auguriamo e possa essere come dire da spinta per altre produzioni Il risultato del lavoro si è rivelato molto affascinante e particolarmente apprezzato tanto che gli stessi attori Simone Montedoro e Bianca Nappi sono rimasti affascinati dall'area, a loro sconosciuta e nel corso dell'evento di presentazione così come dichiarato dal presidente della fondazione Michele Albanese saranno pronti ad essere parte del progetto nel momento in cui si deciderà di ripetere l'esperienza per raccontare altri meravigliosi luoghi dell'area Un progetto che, come sottolineato dall'attore Simone Montedoro può essere sicuramente un grande slancio per lo sviluppo turistico dell'area L'esperienza vissuta durante le riprese di Don Matteo, come spiega l'attore è stata utilissima per il rilancio turistico dei centri raccontati nella fiction Nulla vieta dunque di poter ripetere la stessa esperienza anche con il Cilento Quello che mi ha colpito soprattutto è conoscere questi posti attraverso lo sguardo, gli occhi di chi ci ha accompagnato C'è qualcuno, in particolare lo cito, Michele Albanese che ormai è un grande amico che ci ha fatto emozionare tantissimo con i suoi racconti e la sua storia Il cine turismo è una cosa che si può portare avanti tranquillamente questo è un esperimento che alla fine è andato a buon fine, è piaciuto molto Il cine turismo è fondamentale, tant'è vero io lo dico personalmente per la mia esperienza per quanto riguarda la fiction Don Matteo alla fine Spoleto, Gubbio, anche un po' tutta l'Umbria ha avuto un incremento turistico notevole questo lo dice anche la Conf Commercio Umbra quindi è un buon lancio anche per il vasto territorio che offre dei luoghi stupendi che anche noi italiani non conosciamo Alla presentazione del docufilm hanno partecipato in tanti a partire da Gisella Macchiaroli che presso il suo castello ha ospitato alcune riprese del film passando per il presidente del Parco Nazionale Cilento Vallo di Diana Alburni, Giuseppe Coccorullo oltre che alcuni dei sindaci dei luoghi raccontati nel docufilm Nel 2023 in provincia di Salerno sono andati bruciati 99 ettari di superfici forestali e quanto emerge dal rapporto incendi boschivi 2023 Ispra secondo il quale la nostra provincia risulta 17esima nella classifica delle province italiane più colpite e prima in Campania La provincia di Salerno nel 2023 è stata in balia dei piromani dal rapporto incendi boschivi 2023 Ispra risulta 17esima nella classifica delle province italiane più colpite e prima in Campania che è la più esposta agli incendi dopo Sicilia, Calabria e Sardegna Nel 2023 in Italia è bruciata una superficie complessiva di 1.073 chilometri quadrati quindi più 36% delle superfici rispetto all'anno precedente Gli incendi sono risultati rilevanti sia per l'estensione complessiva delle aree colpite inferiore solo al 2021 negli ultimi sei anni sia perché hanno colpito sistematicamente solo alcune province e tra le prime 20 c'è la provincia di Salerno con 99 ettari di superfici forestali percorse da incendio senza contare le aree non classificate Un'emergenza che rischia di proporsi anche quest'anno ai primi caldi con un danno economico e ambientale incalcolabile commenta il direttore di Coldiretti Salerno Enzo Tropiano e la situazione rischia di aggravarsi con l'abbandono dei rifiuti nelle aree rurali l'invito alle amministrazioni locali e di incrementare i sistemi di prevenzione e vigilanza attiva serve potenziare le dotazioni e il personale volontario delle squadre antincendi boschivi presenti in tutti i comuni ma soprattutto una puntuale gestione della pulizia dei boschi e delle aree rurali che possono essere affidati anche alle aziende agricole che possiedono i mezzi, il personale e l'esperienza per svolgere un lavoro a beneficio di tutta la comunità gli agricoltori rappresentano una rete naturale diffusa di sorveglianza, dicono senza la quale il conto delle devastazioni sarebbe molto più pesante e sono anche esposti a gravi rischi specie in una situazione dove la siccità e le alte temperature favoriscono l'espandersi rapido delle fiamme La scoperta di nuovi focolai di peste suina africana con il ritrovamento nell'ultimo mese di carcasse a Sanze e caselle in pittari ha portato ad una nuova classificazione delle zone tra Cilento e Golfo di Policastro nella zona di restrizione 1 o zona Cuscinetto entrano ora anche San Mauro, Labruca, Ceraso, Vallo della Lucania, Camerota Accentola, Pisciotta, Moio della Civitella nella zona 2 o zona rossa invece si aggiungono Rofrano, Torre Orsaia, Alfano, Morigerati, Rocca Gloriosa e Tortorella Andiamo avanti Appolla si va avanti spediti nella costituzione della comunità energetica rinnovabile il comune ha ora individuato i beni pubblici da mettere a disposizione dell'iniziativa Appolla l'amministrazione Loviso viaggia spedita verso la comunità energetica rinnovabile pianificando i passi da fare per arrivare a costituirne una sul territorio comunale nei giorni scorsi ha individuato i beni pubblici da mettere a disposizione dell'iniziativa l'Aggiunta aveva approvato a marzo la delibera di indirizzo per valutare la possibilità di creare la CER Polla cercando famiglie e imprese interessate e anche un soggetto facilitatore e derogatore di servizi ora ha deciso i beni pubblici di proprietà comunale per l'installazione degli impianti fotovoltaici e sono la Casa Comunale in via Strada delle Monache il Centro Sociale Polifunzionale Don Bosco in località San Pietro i plessi scolastici l'impianto sportivo medici in località San Giovanni l'isola ecologica nell'area industriale l'impianto di depurazione in località a maltempo l'immobile in piazza a ritorto la Chiesa della Trinità il Convento di Sant'Antonio e il Cimitero l'amministrazione Loviso è convinta che percorrere la strada della transizione energetica sia necessario le politiche energetiche europee e nazionali per centrare gli obiettivi della transizione energetica si legge nella delibera puntano alla centralità del cittadino consumatore produttore e le comunità energetiche rappresentano un fattore trainante permettono ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e governance del campo energetico sono capaci di favorire una maggiore equità del mercato dell'energia e una maggiore sostenibilità in tutto questo il ruolo del comune centrale come soggetto che facilita la comunicazione favorisce il coinvolgimento di cittadini e imprese potendo anche decidere di far parte direttamente della comunità energetica La carenza di sangue negli ospedali è un problema soprattutto in estate nella provincia di Salerno in questo periodo coinvolge anche l'ospedale di Polla arriva l'appello urgente della Croce Rossa locale che invita i donatori a compiere un gesto d'amore occorre in particolare sangue zero positivo e zero negativo è possibile donare dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 10 presso il centro trasfusionale del Curto noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità Rieccoci di nuovo in studio ben ritrovati sarà Ispani ad ospitare la prima delle 5 tappe del progetto i borghi del Cilento Jets che attraverso la musica di altissimo spessore qual è il genere Jets vuole puntare anche a valorizzare i piccoli e suggestivi borghi dell'area del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni si parte domani sera già con un grandissimo artista in una location di grande fascino e attrattività che è il borgo medievale di Ispani che affacciandosi sul mare regala anche suggestive emozioni alle ore 22 di domani sera dunque al via il progetto che raccoglie insieme 5 comuni quali appunto Ispani, Laurino, Monte Corice, Teggiano e Ballo della Lucania si tratta di borghi che da diversi anni promuovono la musica Jets e che ora attraverso il progetto hanno deciso di mettersi insieme per creare anche un programma di sviluppo turistico attraverso la musica primo grande spettacolo domani sera nell'ambito della storica manifestazione Ispani Jets con l'arrivo nel borgo antico del grande musicista Reggelato e la sua band in merito all'evento di domani sera abbiamo raccolto le parole del sindaco di Ispani Francesco Giudice che spiega proprio il valore del progetto evidenziando la grande qualità della musica offerta dall'artista che aprirà la stagione estiva ad Ispani siamo giunti alla 22esima edizione di Ispani Jets quindi è una tradizione in Ispani di fare musica Jets da un bel po' di anni quest'anno come novità quest'anno abbiamo fortemente voluto allargarsi e unirci ad altri comuni abbiamo composto una rete di comune tra cui Laurino che fa già Jets da 35 anni c'è anche Tecciano poi c'è Monte Codi c'è il Vallo della Lucania quindi abbiamo fatto una rete tra comuni abbiamo presentato un progetto alla regione che ci ha anche finanziato quindi abbiamo composto questa rete comune chiamata Borghi del Cilento Jets e siamo così riusciti a fare questa unione tra comuni il Jets Ispani è da molti anni che si fa è una bella tradizione di musica musica con strumenti e artisti veramente di caratura mondiale quello che abbiamo venerdì abbiamo un musicista che sono in Flesi con la sua band Ray Gelato quindi di fama internazionale vale la pena di venirlo ad ascoltare perché poi nello scenario del borgo antico di Ispani sarà molto più suggestivo ascoltarlo dal vivo il Jets non è per tutti sono gli appassionati di strumenti musicali di buona musica non è capita da tutti però questi artisti si fanno conoscere nel mondo per la loro bravura con gli strumenti musicali quindi sarà un evento che sarà seguito da molti e poi quando riguarda la rete dei comuni è importantissimo perché noi tra comune adesso interloquiamo anche attraverso la musica spostiamo una massa anche se non è forse eccessiva una massa di persone a far girare per questi borghi una volta qua poi la serata iniziana di questo progetto parte da Ispani però ci saranno altre date che saranno a Vallo, a Laurino, a Tejane, a Monte Codice quindi la gente che si sposterà tra questi borghi è un motivo in più per far conoscere anche i nostri borghi che spesso sono sconosciuti da alcune persone verso la musica si renderà molto più vicini un invito a tutti quelli che possono venire e partecipare a questa manifestazione che sarà sicuramente di alto livello con artisti di alto livello è un divertimento anche appassionato per la musica sarà sicuramente una bella cosa da ascoltare i borghi come i borghi le caratteristiche ci troviamo in centrale dal Golfo di Policastro c'è l'area sotto la collina col mare sotto quindi è un scenario anche da vedere ecco, bello A Sala Consilina il 12 luglio prossimo grazie all'impegno del giovane Luca Gallo e dei giovani che collaborano con lui nella sua attività si terrà una grande serata di musica con l'arrivo a Trinità del noto cantante neomelodico napoletano Rosario Miraggio che animerà la serata del venerdì al 58 che si svolge ogni venerdì sera appunto presso la piazzetta di Acente la chiesa della Santissima Trinità il concerto prenderà il via alle ore 22 con l'artista che animerà la serata con la sua musica per circa due ore mentre si potrà godere delle sfiziosità preparate dal launch bar 58 i biglietti d'ingresso sono già disponibili e sarà possibile ottenere tutte le informazioni utili per l'evento presso il 58 di Trinità di Sala Consilina che organizza l'evento l'apertura dei cancelli presso la piazzetta che daranno il video ufficiale alla serata di musica è invece prevista per le ore 20 andiamo avanti il cantante di Sala Consilina Francesco Ippolito torna con un nuovo singolo dal titolo Diablo e cambia nome si chiamerà F1 dopo il successo registrato dai precedenti singoli e dal concerto organizzato in primavera a Sala Consilina con una parte del ricavato devoluto all'acquisto di giocattoli per i bambini ricoverati all'ospedale di Polla il giovane cantautore Francesco Ippolito annuncia la sua nuova hit per l'estate 2024 si intitola Diabla ed è disponibile da pochi giorni sulle principali piattaforme digitali musicali con il nuovo singolo il noto cantante di Sala Consilina annuncia anche che artisticamente da questo momento si chiamerà F.I era da un po' di tempo ha affermato che pensavo di cambiare nome d'arte sono un ragazzo a cui piace portare rispetto alla famiglia quindi ho sempre portato il mio nome in alto questo cambiamento è un modo per adeguarmi ai tempi il mio nuovo nome d'arte l'ho deciso insieme alla mia famiglia e al mio team ma per tutti gli amici e fan sarò sempre Francesco abbiamo deciso di chiamarmi così perché stiamo portando un nuovo mod in giro nuovi spettacoli e nuovi progetti Diabla è dunque il nuovo singolo scritto da Francesco Ippolito una canzone che farà ballare un po' tutti ha detto è dedicata all'amore quello folle il brano parla di una ragazza al centro dell'attenzione in disco e alla fine viene fuori l'amore quando al termine della canzone la protagonista dice forse io e te siamo fatti davvero per stare insieme siamo il bene e il male siamo una cosa sola con questo brano prosegue Francesco ci vedremo su tutte le spiagge del sud Italia sono previste già delle serate le cui date sono pubblicate sul mio profilo Instagram Diabla è accompagnato anche da un videoclip che è stato girato tra Piazza della Libertà a Salerno e la zona litoranea di Ponte Cagnano infine Francesco esprime i propri ringraziamenti ringraziamenti a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del nuovo singolo volevo ringraziare chi con me ha collaborato a questo progetto ha concluso Pino De Carlo per la produzione Mix il regista, il mio manager, tutta la mia squadra a Napoli e tutti coloro che mi seguono e sostengono sempre e ora lo sport Danilo Iervolino resterà da proprietario fin quanto non ci saranno sviluppi in merito ad una possibile cessione totale o parziale ma non vuol più ricoprire la carica di presidente della Salernitana lo ha detto ieri intervenendo da remoto alla conferenza stampa della presentazione della nuova stagione sportiva della Salernitana vediamo è stata una conferenza stampa movimentata ma almeno qualche punto ancora oscuro è stato chiarito intervenendo a sorpresa in collegamento da Roma Danilo Iervolino ha confermato quanto da tempo si diceva resterà da proprietario fin quando non ci saranno sviluppi in merito ad una possibile cessione totale o parziale ma non vuol più ricoprire la carica di presidente della Salernitana prossimamente si dimetterà a lasciare ad altri compito di rappresentare il club e di seguire da vicino le sorti della squadra Granata Iervolino ha definito faziosa la stampa Salernitana rispondendo ad un paio di domande non senza irritazione in serata Luzzi Campani ha preso posizione sull'accaduto sigmatizzando le parole di Iervolino che è fra l'altro anche un importante editore Iervolino non ha più entusiasmo e voglia di essere attore nel mondo del calcio anche se ha ribadito che la sua squadra del cuore resterà per sempre la Salernitana ha investito tanto, lo ha fatto anche di recente per questo non si spiega ha aggiunto le ragioni del sit-in dei tifosi indetto per questo pomeriggio contro di lui in realtà l'iniziativa era nata per chiedere chiarezza sul futuro della Salernitana ed ieri a dare risposte certe, chiare, solari è stato il direttore sportivo Petrachi è stata un'occasione persa per un confronto aperto e senza veli fra Iervolino e la stampa locale che proprio in quanto radicata sul territorio può rispondere all'esigenza della cittadinanza di avere tramite essa notizie, risposte e chiarimenti dai diretti interessati la Salernitana vuole puntare sulla sostenibilità e sulle idee per risalire nel giro di tre anni in massima serie lo ha detto Iervolino ed almeno su questo ora i tifosi hanno la possibilità di conoscere i programmi del club dalla settimana prossima partirà il ritiro del nuovo allenatore Giovanni Martuscello sa che non avrà subito a disposizione la rosa definitiva con cui affrontare la stagione intanto Gaetano Fontana che il destre Petrachi aveva contattato dopo l'addio di Sottil è stato esonerato da Latina era questo il nostro ultimo servizio grazie per essere stati con noi arrivederci grazie a tutti 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 grazie a tutti